Oh 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 giornata perché trolleremo il mio amico kendall cioè almeno spero di riuscire a trollarlo perché vi ricordate qualche episodio qualche video fa che ho creato una fantastica trappola per kendall oggi cercheremo di buttarlo lì dentro infatti ho mandato un messaggino a kendall dove gli ho detto che ho trovato una magione incredibile più in là nei boschi e lui è veramente esaltato vuole cioè veramente su di giri vuole andare in questa magione e niente quindi cerchiamo di intrappolarlo cerchiamo di farlo cascare dentro quella super trappola mi raccomando ragazzi voi come sempre lasciate un grandissimo like al video e speriamo che il troll vada a buon fine speriamo speriamo di sì ok adesso per ora non è in ts lo aspettiamo non vedo l'ora non vedo l'ora comunque lo so gli faccio un sacco di scherzettini e sicuramente lui si vendicherà come sempre però sono io re degli scherzi kendall hai capito quindi riuscirò a trollarti una volta per tutte ecco ti poi sto già registrando è quindi allegro molto carico perché oggi andiamo a fare quel salto nella magione come ti avevo detto eh ok il salto nella magione si il salto proprio il salto nella magione io l'ho esplorata da poco la magione non c'è niente di che in realtà dobbiamo andarci per forza lo so sì perché a me mi servono le risorse lì ci sono un sacco di cose interessanti ci sono i totem quelli lì che se muori ti ridano la vita e bla 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 ci sono un sacco di cose moltissimi smeraldi aspetta arrivo eh sì preparati perché oggi non so questo presentimento che è una giornata super sarà super divertente oggi eh ok va bene io spero allora di prendere almeno una trentina di smeraldi ne ho bisogno e visto che il mio mondo facciamo il 2% a te e il 98 a me giusto facciamo il contrario 98% a me oh ciao dai sei pronto hai tutto guarda non pesca non sono una trota l'ho craftato da poco per darti fastidio guarda io cosa so per darti fastidio allora mi togli mi l'amo ok allora facciamo così andiamo a prendere anzi anzi mi stavo dimenticando stavo per dire vai a prendere un sacco di cose invece posa tutte le cose importanti perché lì si rischia di morire aspetta 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 ma cosa hai pescato il cielo guarda una nuvola hai preso una nuvola che bello è l'amo in bocca non è che sia molto che cosa devo prendere no devi posare tutte le cose diciamo importanti quindi posa non so l'armatura va bene quello e poi portare tutto sì ma perché paura che muoio lei ci sono mostri forti sì 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 si siamo le ore posa mi prendo l'armatura migliore dai no 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 posa posa posso man mano no 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 perché la porto già io fягham me la porto questa quella che abbiamo trovato nell'esplorazione no 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 e perché te lo spiego dopo metti giù perché vengono in casa no allora ti fidi di me mettici fuštate bene ok ok tutto in ferro perché fidati questi sono un sacco di mostri Ho visto anche la bestia Appunto Se mi metto in diamante Resisto meglio Ho già fatto io Ho già messo le TNT sul posto Fidati Rischiamo di fare Un'esplosione incredibile Dopo Aspera Fai tutto tu quindi Sì faccio io Non ti preoccupare Metti giù tutto Ok Vabbè Questo però me lo porto Aspetta Cosa? Molto meglio Le metto in giantato Ok Sì va bene Fai come Fire protection Unbreaking E aqua affinity Sì sì Vabbè Al massimo se lo perdi Te lo ridò Come lo perdo No no niente Allora sei pronto? Possiamo andare Facciamo una bella camminata Perché è un bel po' lontano Come ti dicevo Ah ma sei già dov'è? Sì sì L'ho vista io Ah ok andiamo L'ho visto Ho detto No ci devo andare con Kendall Assolutamente Blah 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 Altre cose del genere Ti stai comportando In modo strano Bella faccia No ma non vedi come sono felice So già che dirò Ma non l'hai mai trovata? Sai che non mi ricordo No una volta tanto tempo fa Una volta tanto tempo fa Però non sono riuscito A prendere tutto Perché avevano rapito Il mio cane Sì Ma a me Ho detto che Ci sono tipo dei tesori Nascosti sul tetto Devi scavare tipo Tutta la magione Per trovarli Infatti ci staremo Un bel po' eh Ah stai attento Al mio cavallo zombie Oh che figata L'ho sempre voluto Un cavallo zombie Andiamo Andiamo cavallo Non è ancora domestico E come faccio E come faccio a farlo diventare amico mio Mi sa che Devi lucidargli le ossa Qualcosa del genere Ma che schifo Vabbè dai andiamo Continuiamo Ma quale migliorare È da un bel po' che hanno Dentro del mondo Sì l'ho migliorato Te ne accorti solo ora Eh sì Sembra proprio Wow Lì c'è Bella faccia Che indica Là Ti ricordi la prima volta Che sei entrata Sì Là Ho visto da due anni Ragazzi qui E dove ci siamo incontrati Per la prima volta Si può dire Qui Wow Che cosa romantica Che hai detto Andiamo dai Allora È da questa parte Come puoi vedere Qui è tutto nuovo L'ho abbrito Eh infatti Ma che figata Questa stradina è nuova Non l'hai mai vista Ma che è quello Cosa No vabbè Ma cosa hai fatto L'eliporto Allora questo è il ponte E quella è la base segreta sotterranea Cioè non è tanto segreta Perché si vede Ma che figata Un atterraggio per gli aerei Ti piace Sì sembra tipo la base di un alieno Ma è bellissima Ok Comunque ti dicevo Che la base Che la super magione È laggiù Oh M'ero scordato Che avevo Oh mio dio M'ero scordato Che avevo un passo gelato Ci sei? Ma che figata Sì sto guardando Ma dove sei Ti ho perso? Sono qua Mi vedi? No Aspetta Vado un po' più in alto Dove sei? Qua mi vedi? Qua giù Guarda la faccia Tira una frezza Vai Sono qua L'hai visto? Aspetta Ok T'ho visto T'ho visto T'ho visto Arriva arriva Ok Ma stai ammazzando uno squid No io non ho fatto un bel niente Vieni qua L'hai ammazzato con la freccia No dove stai andando? Qua devi venire Eh sta arrivando Aspetta Veloce 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 Dobbiamo muoversi Dobbiamo muoversi assolutamente Ok Perché tutta sta fretta? Dai dritto qua Dritto qua Che se no ti perdi Ho capito Ma mica se ne va via Muoviti 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 qua da me Dai Veloce veloce Sto arrivando Sto arrivando Aiutami Aiutami Oh cavolo Cavolo il mio amico Aiuto Aiuto Ma perché ci sono le sabbie mobili? Cosa fai? Vieni qua No 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 Lasciami Ma la macchia Sto morendo Non lo blocchi Aiuto Cavolo Cavolo Kendall Aiuto 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 Cosa hai fatto? Oh mio dio È stato bellissimo Ma perché? Oh mamma Ma come hai fatto? Oh mio dio Le sabbie mobili Sei stato trollato Sei su bella Faccia scherzi a parte Non esiste nessuna magione Esisteva solo una super trappola Per trollarti Mamma mia Ma come hai fatto? Se vieni qua Te lo faccio vedere Però mi prometti Che non ti arrabbi Anzi scappo via Perché mi farai affettire No aspetta ma Era la mia roba Ecco perché mi hai detto Non portare niente di prezioso Mi devi un elmetto Vabbè Quello lì Si rifà subito Dai torna qua Ti faccio vedere Com'è fatta Perché ci ho messo un sacco Ragazzi ci siamo riusciti L'abbiamo trollato Cioè ma quindi tutto Tu hai organizzato tutto questo Mi hai detto Oh vieni 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 Luna Mi racconto dopo pranzo Vieni Dobbiamo registrare Per questo Io sono il re degli scherzi Cosa credi Guardate lo sta tornando Vieni vieni Non mi sento per nulla In colpa che l'altra volta Ti ho fatto uno scherzo Tanto Infatti l'ho detto Sicuramente dopo si vendicherà Perché tanto ci facciamo Uno scherzo al giorno Quindi si vendicherà sicuramente Vabbè ho capito Però adesso stanno diventando Veramente troppo Guarda Guarda qua Che c'è il filo Guarda lei Hai visto? Non ci posso credo No I pistoni Hai visto quanto l'ho mascherata? Eh? Ma come? Non so come hai fatto Scusa un attimo Hai visto? Come hai fatto a mettere la sabbia su? La sabbia su con i cartelli Così? Anche così ci sta Prova a rimetterla Ah no 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 Non si sta Perché vanno La sabbia va sopra E il cartello sotto Il pistone si attiva Rompe tutti i cartelli E tu caschi su E io rido Ma io non pensavo Si potesse fare una roba del genere Su un bancher Io sto un po' lontano Perché ho paura Che mi butti di sotto No 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 Ma guarda Guarda qua Vieni Guarda con me Sì sì Vieni vieni Guarda Guarda qua Guarda quanto è bello Qua sotto Vieni vieni Sì sì È bello No Bella faccia Bella faccia Le tue ultime parole Se solo avessi una candana pesca Tieni una mela Tieni Ti passo la mela Tieni Dai Passa Oh cavolo Non ce la faccio Passa Non è possibile Non è possibile Oh mio dio Ragazzi per questo Se ne è anche andato Se ne è anche andato da TS Comunque sia per questo scherzo è tutto Vi auguro una fantastica giornata Lasciate un like Se non siete iscritti Iscrivetevi E scrivete magari il prossimo scherzo Il prossimo scherzo da fare a Kendall Giusto Kendall? Che andato? Io non ti parlo più Scrivetevi il prossimo scherzo da fargli Mi raccomando Ci vediamo domani con un nuovo video Ciao 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 Ciao